Allora, io devo dire una cosa, è bello che sta andando, quindi poi intanto taglio, questo l'ho imparato, posso tagliare, quindi posso mandare tutto il p***o. Allora, cosa dico? Ah no, no, perché io ho tanti video all'inizio dicendo benvenuti in Val di Scalve. Benvenuti a Passo da Presolane, anzitutto, da cui si può ammirare le bellezze della Val di Scalve, delle prealpi e robie. Eh sì, qui siamo all'inizio delle Alpi. Sai che io terrei questa parte qui? Allora, io direi, no, non la farei troppo complicata, dato che un video io ho fatto benvenuti in Presolana. Poi tagli e parte. Sì, e poi parte così, quindi devi prima prendermi così. Secondo me io camminerei leggermente verso di te. Facciamo così, eh. No, senza prenderti là. È vero, ma facciamo così. Benvenuti in Presolana. Grazie a tutti. Ragazzi, c'è già un profumo di braccia, eh? Allora, stiamo qui a... la Malgabassa, eh? Vi porto a visitare questo posto carino. Dopo andiamo qua, dove fanno vendita di formaggi e salumi. Come vedete, è molto rustico. Bello, bello, bello. Sentite? Io lo sento, ma voi piano piano lo sentirete. Questo è il profumo della griglia che va. Ciao! Andiamo a vedere la polenta. Grazie, scusami. Mamma mia! Si sente da fuori il profumo. No, fantastico. No, grazie. No, grazie. Ho scusato la metà della roba. Grazie. Onore Malga Bassi. E qui entriamo un po' nel cuore della Malga. Qui vendono tutti i formaggi. qui. Questo dipende da secondo me da... ...stagionatura. No, grazie. No, grazie. Questo dipende da secondo me da... No, grazie. Qui sono in salaria. Che profumo, a vedere. Incredibile. E' proprio la mia. E' incredibile. E' incredibile. E' incredibile. E' incredibile. C'è un profumo. e hanno anche il ristorante, quindi veniteci perché è veramente buono, fanno una pancetta Iscrivetevi al canale! Il suo bolletto scout Allora oggi presentiamo il quadrell, questo formaggio di Le Valli Ragazzi, che roba! Questo qui si mette sulla griglia Dai fai un giro, fai un giro Signori, signori Mamma mia Mamma mia, guarda che roba Queco, Queco Bravo Michelino Ah ma sono più di... Minchia questa Questa è una pallone Facciamo così Vabbè, se no la facciamo in due sacri Mi sento in caderno Ah proprio di tutti insieme lì Se vuoi c'è l'olio che è rovesciato Allora c'è qui Ce l'hai anche aromatizzato Infatti va però Infatti Ma se ti tiro di più Non è perfetta Mamma mia Che bucci Che bucci E' un gattone Vedi? Cioè drone No Video così Sette ore Concludiamo Con l'ultima vista Si vedono lì in fondo Le montagne Ecco uno dei dispiacere più grandi quando poi torno a casa E' pensare che a un certo punto queste montagne non si vedono E quindi sai che stai tornando nella tua vita di tutti i giorni Dove c'è tanto lavoro, tanto salimento E sai che la montagna e il verde ti danno quella pace E resta tranquilla E vabbè